Eeeh what day a tutti ciurme e benvenuti raggiungere in questo nuovissimo episodio su Re-Mother Tormented Fathers Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo vissuto veri e propri attimi di puro terrore Oserei dire perché abbiamo incontrato pure una ragazza indemoniata che urla peggiore Tarzan quando... no lo so E sotto sua indicazione abbiamo trovato una stanza segreta dietro il muro del caminetto ragazzi E' quello che dovremmo fare oggi cioè andare lì dentro Vi avviso probabilmente ragazzi l'episodio di oggi non durerà tantissimo perché non ho proprio tanto tempo a disposizione Causa impegni ma poco importa Bando alle ciance mi dirigo verso il caminetto ovviamente perché la volta scorsa ero tornata di qua per andare a salvare Ok cioè non ho avuto manco il tempo di iniziare e già sento i passi quindi già è qua presente Che palle ragazzi datemi un attimo di tregua eh cioè sto tornando dopo qualche giorno Già non vedevate l'ora di vedermi Cioè gli abbracci più tardi ragazzi c'ho altro da fare devo andare a ispezionare una camera segreta E scusate La cosa più assurda è che non so se ci sta dando la caccia anche quella ragazza perché la volta scorsa Se non vi ricordate avevamo preso le batterie da suo telecomando e questo l'aveva fatta infuriare non poco Come avere due nemici e le calcaglie Io mi avventuro non sento più niente E vabbè E vabbè Continuo a sentirsi aprire cose Ecco qua la stanza segreta E' arrivato il momento di Ispezionare questo ambiente sicuramente meraviglioso Continuo a premere per spegnere la torcia Vabbè allora raga Ci siamo Siamo entrati Questo posto non viene visitato da un bel po' di tempo sembrerebbe Non so che dobbiamo fare Dobbiamo aprire Dobbiamo ispezionare qualcosa Ok qua non c'è assolutamente niente C'è un armadio per nascondersi Proprio un ottimo segno direi Questa porta è sbarrata da una sedia E questa statua è in mezzo alle palle Ah c'è un punto di salvataggio Direi di approfittarne Visto che non si può mai sapere questo gioco E risalvare la partita Perfetto Dopo aver approfittato di ciò Vediamo un pochettino Allora Cos'è che posso guardare qua Direi di provare ad aprire un po' i cassetti Magari c'è qualcosa di utile Oh nuovo collezionabile sbloccato Vediamo il retro cosa dice Niente Ah perché sei cresciuta Perché sei diventata Jennifer Ma chi è sta Jennifer Cioè di che stiamo a parlare C'è altro che posso ispezionare qua Chissà di no ragazzi Ok lì c'è l'armadio Niente da fare D'accordo Vediamo un po' se Qua mi sono persa qualcosa Allora con questo carrellino possiamo interagire Però qua non possiamo interagire con nient'altro Per cui non ci resta che interagire qua Vediamo un po' che succede Ok Faremo un casino della miseria Suppongono Posso spingerlo Le ruote sono inceppate Il carrello non si muove Sposta il carrello che blocca La parete intonacata nel corridoio segreto Ah infatti c'è Sta parte della parete ragazzi che È strana E qua c'è un enigma Abbiamo qualcosa noi? Ah potrei utilizzarla per lubrificare oggetti arrugginiti Ecco qua Minchia che culo Certe cose in sto gioco ci sono andate proprio di culo ragazzi Perché l'olio non mi ricordo dov'è che l'avevo trovato Boh Fatto sta che per fortuna ce l'avevamo già A questo punto è il terrore che qualsiasi cosa faccia rumore Effettivamente Questo sembrerebbe ci sia qualcosa Oltre questa parete Immagino Mi apri un varco attraverso la parete Intonacata nel corridoio segreto Pur uno scemo capirebbe Che bisogna spingere sta stato a farla cadere Per far crollare la parete No? Madonna Proprio antisgamo Proprio antisgamo no? Questo si poteva aprire Ah sì sì che si poteva aprire Esplora la stanza La stanza di Celeste Oh mio dio Davvero? Oh Gesù raga Oh mio dio È davvero la stanza di Celeste L'aveva murata L'aveva Nascosta Comunque questo cos'è uno specchio? Minchia pieno gli specchi qua Uno Due Tre Quattro Cinque Raga non so se vi state rendendo conto Che ci sono tipo almeno cinque specchi dentro sta stanza Sei scusatemi Ma perché? Perché tutti questi specchi? Oddio Ok comunque la cosa rimane abbastanza inquietante Perché continuo a non poter immaginare cosa mi devo aspettare io adesso da sto posto Cioè dopo aver ispezionato Cosa c'è qua dentro? Non possiamo prenderlo Comunque visto che ci dà la possibilità di aprire i cassetti Direi che forse è il caso di farlo Interagire con qualsiasi cosa possiamo interagire Non è che pure qua c'è qualcuno che si arrabbia se tocchiamo le sue cose No Potrebbe essere Raga ispezione la stanza di Celeste Non è che c'è tanto a rispezionare Non mi fa interagire con nient'altro qua Sto letto cos'è questo sangue? Oddio Vi ricordate che Felton l'aveva ammazzata ragazzi? Non mi fa interagire con nient'altro Raccogliamo questo Qua possiamo entrare? Ah ok Perfetto il bagno Meraviglioso Cos'è sto rumore? Proviene da un dispositivo? Da che cosa? Cioè non possiamo interagire con niente Nella vasca? Perché sapete molto spesso ste cose sono nelle vasche piene d'acqua di merda Non è che mi sono persa qualcosa no E che no non ci fa interagire Cioè mi sembra così strano che non ci sia niente da trovare qua dentro Capite che vi voglio dire? Cioè ci fa pure interagire con come si dice con i cassetti Adesso viene da fuori Cavolo What the fuck Oh che? Che ho fatto? Se non c'era niente dentro Ah ma penso a te Ok E' lei E' Celeste Ah quello è sicuro tesoro Ma siamo No Oh Sì, lei non è possibile andare fuori. Lei è stato dormito in mia casa per anni fa, e ho dormito con lei. Siamo con lei, andiamo in la beda. Dad lo scopriamo in, e mi chiede a me, 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 e mi chiede a me. Vicky? Un'altra parte. È stato un buoncetto. È stato un buoncetto. E' stato un buoncetto. madre mia che succede? che succede? signora Fletcher un po' l'attenzione oddio che sta succedendo adesso oddio no oddio oh no 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 che sta succedendo? che sta succedendo? no 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 ok un attimo di calma allora riassumiamo un attimino quello che è successo sta povera ragazza era effettivamente scappata di casa e l'aveva aiutata la madre però poi per qualche recondito motivo sta povera ragazza è tornata lì e lì è iniziato il patatrack perché quell'imbecille di Felton le faceva delle sedute di ipnosi usando anche quel farmaco lì per cercare di farle dimenticare chi fosse forse e forse tramutarla in Jennifer la madre era vittima anche lei insomma di Felton alla fine ha cercato comunque di aiutarla a fuggire abbiamo l'informazione che dietro un armadio forse c'è una insomma una parte che non regge una roba del genere e da lì forse l'unica via di fuga è l'attico quindi dopo questo spavento bestiale mi sembra di aver capito che l'unica cosa che ci rimane da fare è andare su ignorare le tue paure non guardare oddio no 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 gli specchi alimentano le tue paure che vuol dire distruggi quello che ti spaventa ah aspetta è un indizio distruggire ah allora forse dobbiamo usare dobbiamo spaccare gli specchi ha detto che gli specchi alimentano le paure vedete ah ecco perfetto 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 oh merda oh merda si quanti ne ho presi non lo so si fogli al pezzo ok oddio oddio ragazzi oddio 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 non posso resistere non posso resistere no no non guardare non guardare non guardare no 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 oddio oddio ok ah merda dobbiamo rifare tutto devo rifare tutto cavolo quindi la vecchia non la devo guardare chiarissimo Niente raga ci vediamo al momento So quello che devo fare almeno Distruggere gli specchi E non guardare quella figura lì Chi mai la vorrebbe guardare Chi sarebbe così impavido da volerla guardare Ok raga ci siamo di nuovo Ci siamo di nuovo Ok Oh merda Ok Devo cercare di non guardare Oh merda non ho più diversi Non ho più diversi Ok devo prendere altri mattoni Perfetto E' difficile E' difficile ragazzi Ok Questo lo spacco L'ultimo Gli ultimi due Eccolo qua ce la faccio A posto Ah ce ne sarà qualcuno nel bambino Ma questo è già spaccato Che manca non li ho spaccati tutti Oh Mi è mancato qualcuno Dove è dove è Ah l'ultimo Eccolo Eccolo qua Oh Usa 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 il diversivo Mannaggia la miseria Ok 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 No Non li ho spaccati tutti Individuo una via rifuga alternativa Esplora la villa Ok Con gli specchi è andata ragazzi Sappiamo nell'armadio Nell'armadio raggiungi l'attico Diceva il nostro attuale obiettivo Ok Deve essere chiuso l'armadio L'aveva detto la ragazza Effettivamente Oh ecco Appunto Tanto che Fin quando non posso salvare Non posso interrompere Ovviamente Eh vabbè Oddio Ovviamente Dovevamo Dobbiamo raggiungere l'attico ragazzi È caduta Tipo in cantina O chissà dove Ovviamente Non potremmo rendere Rendere la cosa un po' più facile No Figurati Ok Adesso sì che sarà un casino Evviva Tanto per rallegrare la giornata Ok ragazzi Lì è uscito scritto Salvataggio Quindi magari mi ha salvato la partita Non lo so Vabbè Comunque non ci resta che Provare ad andare avanti What the fuck Cos'è? Oh Ma che cavolo Oddio no Oddio no Merda Ho sbagliato il tasto Come era uscito Scritto sempre A Ho premuto A Oddio Ok comunque siamo ripartiti da qui Però Mi sa che Ci conviene fare attenzione ragazzi Perché Ecco di nuovo Sbagliato Stato ho premuto B Vabbè senza parole Madonna santa Cercherò di fare più attenzione Ma ogni volta Premo il tasto sbagliato Scritto che stronzo Ma chi è La suora o chi è Oddio Oh Non lo so Sembrerebbe l'arma che usava la suora Sembrerebbe Oddio E' abbastanza E' abbastanza ansiosa Questa roba E' abbastanza ansiosa Anche sta roba Ok Oddio No Che figlio di Dove minchia devo andare Devo proseguire di qua Bello camminare nelle fogne Comunque Oh Madonna E' mezza la melma Che schifo Oddio Oh Ok Spero di farcela ragazzi Qualcosa Non si preannuncia facile Comunque Io procedo di qua Spero che la strada sia quella giusta E' uscito il metro a mano Non so perché Ok Continuo eh Sì col cavolo Ok Devo Prestare tutta l'attenzione Possibile Basta Lasciami in pace Lasciami vivere Madonna Che male t'ho fatto Figlia dell'anagram Vabbè Lo devo di che sei tu Lo devo di Ok Qua c'è Un posto per salire Perlomeno per interagire Ah una scala Non avevo notato Che fosse una scala Ok Ok Ma no Comunque è un incubo Sta cosa eh Veramente un incubo Madre di me Cos'è Mi auguro che ci sia uno specchio Qua per salvare Cosa dice il foglio Prima classificata Le migliori rose Cosa dice il retro 1929 Adorato marito A nostra piccola Jennifer Erfelton Luce dei nostri occhi Trionfa con il suo Andato talento Per il pollice verde Che questo suo trionfo Possa essere il buon auspicio Per te le truppe Di Mussolini In Etiopia Ci manchi la tua amata Allora Da quello che sto capendo No No Era una Era la figlia Loro Vera E quindi Quella poverina di Celeste Poi l'hanno adottata Non è la stessa Ragazza È chiaro Oddio La ragazza Non è la stessa Persona Evidentemente Deve essere morta In qualche modo Oh 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 Certo Jennifer Richardine Felton Oh dear Split personality Unhelpy upbringing By deceased father I was a disfripe A wind Overdose Hormones And testosterone I once or twice Refused to go Through exams This is why He wouldn't go Further through exams They would have Understood Now I understand Why he was Obsessed with His growing daughter And why he started Calling her Jennifer She was Everything His father Never wanted him To be Jennifer Era lui Evita Che diceva L'obiettivo Evita lo scontro Con Jennifer Felton Era il padre Era il padre Allora ragazzi Breve spiegazione Più che altro A me stessa Che ho capito Fino in fondo Quello che La signora Fletcher Ha scoperto E che Effettivamente La famosa Jennifer Che tormentava La mente Di Felton Era lui stesso Perché Jennifer È lei Effettivamente Felton È una lei Ragazzi È nata Femmina Però il padre A quanto pare Non era contento Di lei Perché probabilmente Voleva un figlio maschio Sapete come era La mentalità Di una volta E quindi questo Ovviamente Gli ha creato Un grosso Complesso Per il quale Ha cominciato Ad assumere Ormoni E testosterone Per poter Così Sembrare Un uomo E quindi Farsi chiamare Richard Felton Se non sbaglio Ma effettivamente È lui Jennifer E quindi Lui è una lei In verità E quindi Questa immagine Comunque questa figura Di lei L'ha sempre Perseguitata Ovviamente In quanto il padre Comunque non l'accettava Per quello che era E quindi Evidentemente Aveva finto Anche un matrimonio Con una donna Appunto per convincere Ancora di più Il fatto Delle altre persone Del fatto che lui Fosse un uomo Avevano infatti Adottato una bambina Non l'avevano avuta Perché ovviamente Non potevano E quindi Era ossessionato Comunque Vedendo la figlia Crescere Dall'idea Di questa Jennifer Di lei Donna Di lei Bambina Ragazza Donna Che non ha potuto Esprimere Effettivamente Se stessa Complesso Che le ha creato Evidentemente Delle profonde Psicosi Dei profondi Problemi E disturbi Di personalità Che quindi L'hanno portata Ad uccidere Sua figlia E comunque Anche A perseguitare Sua moglie Quindi la spiegazione È questa Ragazzi Io vi chiedo Scusa Se effettivamente Non ho colto Al momento Della registrazione Del video Tutto questo Però l'ho colto Adesso E quindi Ci teniamo comunque A spiegare Insomma Se non Fosse rimasto Chiaro Qualcun altro Oddio Sì ma dove Minchia Devo andare Allora ragazzi Io Probabilmente La prossima volta Insomma Dovrò Riarrivare Qui Però Una cosa Che sono costretta A fare Perché oggi Purtroppo Non ho più tempo Però ragazzi Sono totalmente Sconvolta Davvero Questo gioco La storia Di questo gioco Ha preso Delle pieghe Veramente Terrificanti Questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione Yubdosh A tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete Quest'anti aggiornamenti Sul canale Potete trovare Tutti i link Nei miei social In descrizione E anche il link Per farmi Delle donazioni Ciao